Del Piero a battere il calcio d'angolo, è iniziato il quattordicesimo minuto del supplementare, va dentro Grosso, c'è Cannavaro Cannavaro anche, è uscito Close che era il marcatore di Cannavaro Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, GOOOOO! GO! GO! GROSHO! GROSSO! GO! Gol di Grosso! Gol di Grosso! Gol di Grosso! Maintio un minuto! Maintio un minuto!ximi efectività! È incredibile, incredibile, siamo sopra e che aggo è un minuto! deeply! Per qualche minuto, gol di Grosso, ancora sull'invenzione di Pirlo, molto bravo a trovarlo, grande gol, grandissimo, bellissimo, nulla da fare per l'Eman, non la vede nemmeno partire questa palla ma non ci sarebbe mai arrivato, bellissimo. Arriva il pallone, lo metto fuori, Cannavaro, poi ancora insiste Poloschi, Cannavaro, Cannavaro, viene contro il piano col Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino lo può tenere anche vicino alla bagnalina, circa 2 contro 1, Girardino, dentro del piano, del piano, del piano, del piano, del piano, come andava dice, Andiamo a Berlino, andiamo a Berlino, andiamo a prenderci a coppa, andiamo a Berlino. Uno spettacolo, uno spettacolo, loro tutti avanti, tutti strutti, siamo ripartiti alla grande, ha dato un gol del Piero, l'aveva sbagliato così nel 2.000, contro la faccia finale, qui non l'ha sbagliato, l'ha messo dentro. È finita, è finita, chiudete le valigie amici, si va a Berlino Beppe, si va a Berlino Beppe. Andiamo a Berlino, andiamo a Berlino Beppe.